il più terribile persecutore dei cristiani, ovvero Paolo, diventa il primo evangelizzatore fino agli estremi confini della terra. La carne di Cristo diventa il nostro cibo, il sangue di Cristo diventa la nostra bevanda, soprattutto affermazioni che oggi la liturgia della parola ci dona e ci mostra la straordinarietà della nostra fede in Cristo. Noi purtroppo siamo abituati a una fede devozionale, a una fede intimistica, a una fede quasi mediocre di persone che ci rifugiamo in chiesa solo per avere un rapporto intimistico con il Signore, quando in realtà la parola di Dio ci proiettono a una fede che ci porta nella concretezza, ci porta all'evangelizzazione, ci porta alle grandi cose. Che il Signore ci illumini sempre di più con questa parola perché ciascuno di noi possa, come Paolo, diventare evangelizzatore lì dove vive e possa veramente, cibandosi del corpo e sangue di Cristo, diventare presenza di Cristo e mostrare come Cristo si rende presente in ogni realtà umana. Buona mission.